Milicevic, che effetto fa a riavvicinarsi al campo dopo l'infortunio? Sì, dopo cinque mesi è nato la prima partita, è solo il primo tempo. Dopo vediamo che io sono poco stanco e in sabato la prima partita vado con Primavera a giocare contro Milano. Invece con la prima squadra quando pensi di tornare a disposizione, di entrare nel gruppo? Sì, vediamo ancora con il mister, io penso dopo la prima partita con Primavera vediamo con lui e io penso di tornare nel gruppo. Quanto è stato difficile recuperare, quanto è stato difficile aspettare? Sì, molto, molto. Il mio 15 aprile è operato e il 15 ottobre è sei mesi. Basta, io penso a giocare, voglio giocare. Con Baroni hai parlato, ti ha detto qualcosa? Sì, sì, sempre parliamo, lui è molto bravo per me, sempre parla con me, con tutti i giocatori, come senti, va bene, tutto bene. Ti devi ringraziare soprattutto in tutto questo tempo che sei rimasto lontano dal campo? Sì, sì, come vediamo ancora cinque partite, solo tre punti, dopo vediamo ancora 40 partite, tutti noi vogliamo in playoff Serie A come tifosi. Grazie. Grazie. Grazie.